Salve ragazzi, sono Gabri Costa, siamo arrivati al dodicesimo capitolo della modalità storia di Injustice 2, capite ragazzi? Questa volta dobbiamo finire la modalità storia di Injustice 2. Lo so che avevamo usato Batman nel primo capitolo, ma bisogna usarlo di nuovo, capite? Se usiamo Batman possiamo scoprire il finale di Injustice 2 con giustizia assoluta. Come potete notare qui alla nave Teschio, Batman sta affrontando l'Atlantidese Aquaman. Avete visto il ristrello contro l'Atlantidese? Mi sa che questo incontro è già finito, vi saluto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e ricordatevi che finale giustizia assoluta bisogna vederla.